Si inizia a parlare di pace, ovviamente con riferimento al conflitto in Ucraina, un tema delicato su cui le opinioni sono molte. Chiediamo quella del sindaco Andrò Orlandi di Roma. La pace è un valore da perseguire, lo bisogna fare in maniera secondo me concreta e utilizzando i canali diplomatici. Per fare questo bisogna forse abbandonare qualche remora, attivare canali di dialogo che permettano la risoluzione dei conflitti. La pace è un valore e per perseguirla va declinato sporcandosi le mani, quindi mettendosi in gioco. Spero davvero che a questi conflitti questa sia la strada maestra di risoluzione della guerra. Davvero basta con le armi, stiamo vedendo sulle tv, sui giornali, davvero troppo dolore, troppo sangue, troppi morti. L'uomo vale molto di più delle armi che lo uccidono. Grazie mille. Prego.